Grazie a tutti. Intanto i carabinieri hanno arrestato due ragazze rom che avevano derubato un'anziana donna algherese della sua pensione. Oggi ci sarebbe dovuto essere l'annuncio del candidato a sindaco del Terzo Polo, ma ieri il tavolo è saltato. Intanto del PD sempre più spaccato, c'è chi vuole abbandonare la sinistra per andare coi centristi. Nei prossimi giorni riunioni decisive sulle future alleanze. Nella nostra pagina sportiva del sabato spazio all'eccellenza, l'Alger ospite il Calangianus. Il Fertilia sarà impegnata sul campo del Valle d'Oria. Parleremo anche del calcio minore. Per il basket sfida esterna, per la Mercedes con Milano, ai nostri microfoni la Play Elisa Donati. La Novacqua anticipa oggi con Catania. Un saluto a tutti voi ben ritrovati con la quotidiana informazione su Catalan TV. Ancora problemi dal campo nomadi ubicato all'Arenosu. Ieri una colonna di fumo tossico si è sollevata dall'insediamento dei Rome, dai vaso Fertilia e l'agro circostante. Sempre per la cronaca, i carabinieri hanno arrestato due ragazze Rome che avevano derubato un'anziana donna algherese della sua pensione, poco dopo averla ritirata dalle poste. Questa mattina i carabinieri della locale stazione hanno arrestato SH, 24 anni, e CA, 30 anni, entrambe residenti nel campo nomadi dell'Arenosu, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Procura della Repubblica di Sassari per furto con destrezza. Lo scorso 25 gennaio, in una strada del centro cittadino, le due donne avrebbero sottratto dalla borsetta di un 82enne del posto la somma di 650 euro. Secondo una tecnica ben rodata, purtroppo quasi sempre redditizia, una delle due avrebbe finto di voler aiutare la vecchina che rientrava a casa con una busta della spesa. Durante queste fasi, la complice avrebbe messo le mani nella borsetta della vittima, impossessandosi del portafoglio che conteneva il danaro appena prelevato dall'ufficio postale. L'82enne si era accorta del furto soltanto al suo rientro a casa ed aveva asporto denunce ai carabinieri, indicando con accuratezza l'aspetto e l'abbigliamento delle due malviventi. Dalla visione dei filmati di alcune telecamere posizionate nelle strade del centro catalano, i militari erano risaliti all'identità delle stesse. Le arrestate si trovano ora agli arresti domiciliari, ovvero nel campo dell'Arenosu. E adesso vi proponiamo un servizio sull'annoso problema dei roghi e del fumo tossico che dal Camponoma invade le abitazioni circostanti, questione ritornata prepotentemente nella serata di ieri. Non appena le condizioni climatiche sono favorevoli, i fertili ed intorni vengono invase dal tipico fumo tossico dall'odore acre che si solleva dal vicino Camponomadi. È bastata la prima giornata di primavera anticipata, caratterizzata dall'alta pressione, che la borgata Giuliana ha subito preso le somiglianze della più grigia Londra d'inizio novecento. Ma in questo caso non si tratta solo di nebbia, ma delle vampate di fumo provenienti dai roghi creati dai Rom nel loro insediamento. Per essere chiari, non siamo davanti ad incendi che potessero mettere in pericolo la vita dei nomadi che vivono stanziali da tempo nell'Arenoso. In questo caso, come accade oramai da tempo, sono proprio dei focolai utilizzati dagli stessi Rom per le loro faccende domestiche. I maligni dicono per bruciare i cavi di plastica e gomma da cui si ricava il rame, l'odore acre, ne confermerebbe l'ipotesi, ma è d'obbligo usare il condizionale. La causa dovrebbe interessare le forze dell'ordine, mentre l'effetto colpisce la cittadinanza locale che vive nelle aree limitrofe. Certamente il fatto che l'area di fertilie e dell'agro adiacente venga appestata in questo modo lascia sconcertati. Alcune persone che giocavano a calcetto in un campo della zona, altro che fare un po' di sano sport, sono rimaste invece leggermente intossicate nella serata di ieri. Sono stati avvisati anche i carabinieri e i vigili del fuoco, che però poco o niente possono fare. Chi dovrebbe intervenire almeno stando al regolamento approvato dal comune sono le forze di polizia municipale che dovrebbero registrare l'inosservanza delle regole presenti nel documento deliberato dal commissario Casula. Ma oramai sembra che anche la cittadinanza, anche se piovono ogni volta le chiamate e i numeri di emergenza, si sia rassegnata ad uno scenario da discarica della peggiore periferia metropolitana, mentre si sta parlando di un luogo, Fertilia, che è uno dei siti più affascinanti dell'intera Sardegna. E sempre per la cronaca c'è da registrare un intervento dei vigili del fuoco che questa mattina si sono recati in via Mazzini per una caduta a Calcinacci. L'intervento di soccorso ha permesso ai vigili del fuoco di mettere in sicurezza la zona. Ed ora la politica. Oggi ci sarebbe dovuto essere l'annuncio del candidato a sindaco del Terzo Polo, ma ieri il tavolo è saltato. Intanto nel PD sempre più spaccato c'è chi vuole abbandonare la sinistra per andare con i centristi nei prossimi giorni riunioni decisive sulle future alleanze. Nessuna presentazione del candidato a sindaco per il Terzo Polo. Oggi, come d'annuncio attraverso comunicato e da dichiarazioni rilasciate la scorsa settimana, si sarebbe dovuto fare il nome di colui che deve correre alla poltrona di primo cittadino. Ma niente di tutto questo, almeno oggi, avverrà. La riunione di ieri, finalizzata a fare sintesi, non ha portato niente di buono. Tra assenze e forti discussioni, non si è venuto a capo di nulla, tranne che la conferma dei nomi già ribaditi da ogni forza in campo. La Salaris per Lapi, Sasso per l'Udc, Ceconello per Fli e Itza per il Pisdaz. Assenti riformatori, sembra per impegni dell'onorevole Fois, legate alle questioni della finanziaria regionale in approvazione a Cagliari. Tutto dunque è stato rimandato, ma come è palese anche dal peso di alcune di queste figure, molto legato a quanto sta accadendo in queste ore nel centro-sinistra. Come ripetiamo da tempo, e anche se gli ultras si affrettano sempre a smentire, ci sono enormi divergenze. Oggi si dovrebbe svolgere una riunione. Una parte del PD chiede di mettere voti all'interno della direzione la scelta di andare o meno col terzo polo, impallinando le primarie e il loro risultato di lubrano candidato a sindaco. Eventualità che trova contrario il consigliere regionale Mario Bruno, mentre un'altra parte dei Democratici, da Daga fino a Calvia, passando per Scala, è pronta ad alzare la mano per l'accordo coi centristi. Questo non solo per una questione di vicinanze programmatiche, ma anche perché non viene digerito il fatto che la sinistra, presentandosi con un'unica lista che raccoglie tutte le sue anime, indebolirebbe inesorabilmente la coalizione. Non è chiaro ancora cosa potrà accadere. L'imbarazzo di una parte del PD a condividere il programma sottoscritto con la sinistra è sempre più evidente. Dal PUC alle questioni etiche ci sono differenze abissali che, come detto, hanno già portato Lanzini a dire addio. Del resto sia l'Ubrano che tutta la sinistra hanno ribadito che mai e poi mai andranno insieme con chi è stato nelle maggioranze che hanno sostenuto il sindaco Tedde. Per questo non è comprensibile come ad oggi, anzi a ieri sera, ancora parti dell'Udc e quasi tutto il Pisdaz continuino ad attendere fuori dalla porta della sede di Via Mazzini. Solo se oggi il PD voterà l'uscita dal centro-sinistra classico e il disconoscimento delle primarie, allora sì potrà nascere una nuova alleanza coi centristi, dai risvolti persino nazionali. Ritorniamo a parlare della questione caro Mensa. Nel primo pomeriggio di ieri si è chiusa la trattativa tra genitori e amministrazione comunale sulle tariffe. Il commissario straordinario Ingegner Casula ha dato mandato al dirigente del settore, Ingegner Saba, di concertare una soluzione che era stata precedentemente verificata con i servizi finanziari. Ed ecco che le tariffe dei buoni pasto restano invariate, ma il servizio si ferma al 31 maggio, dieci giorni prima del previsto, così da contenere i maggiori costi che l'amministrazione deve sostenere per l'incremento significativo del numero di utenti del servizio Mensa, dovuto all'estensione del servizio ai ragazzi della scuola primaria del terzo circolo didattico. In pratica si propone, al fine di mantenere invariata la spesa a carico del comune di Alghero, pari a 460 mila euro, di interrompere il servizio della Mensa, consentendo un risparmio significativo dei costi e di conseguenza applicare gli adeguamenti delle quote a carico dell'utenza a partire dall'anno scolastico 2012-2013. La delibera di modifica della precedente decisione dell'esecutivo è stata sottoscritta dai delegati dei genitori e dai rappresentanti dei circoli didattici. Le continue chiusure dell'acqua da parte di Abba Noa hanno creato alcuni disagi nella cittadinanza. Per questo arriva la segnalazione da parte della lista TED che chiede maggiore attenzione. Rosario Daniele, rappresentante della lista TED, chiede al commissario straordinario del comune di Alghero che si faccia luce riguardo gli interventi di manutenzione della società Abba Noa. Considerato che dal mese di novembre alla città viene spesso negato il flusso idrico, specie nelle ore notturne, La giustificazione resa dalla società Abba Noa causa lavori, la rete, recupero livelli non giustifica tuttavia il perdurare del disagio a carico dei cittadini algheresi. A ciò si aggiunge, spiega sempre a Rosario Daniele, la poca chiarezza degli orari di chiusura dell'acqua che secondo le comunicazioni rese dalla società di gestione del servizio idrico dovrebbero essere comprese fra l'una di notte e le quattro del mattino ma anche questi non vengono rispettati. Alla luce di quanto sopra chiediamo, dicono dalla lista TED e dalla società Abba Noa di rispettare gli orari cercando di ridurre quanto più possibile le ore di assenza del flusso idrico. La società di gestione, fra le altre cose, non deve dimenticare che i cittadini algheresi hanno già provveduto a corrispondere anticipatamente i primi tre mesi del 2012. E oggi e domani potrebbe mancare l'acqua nei comuni di Uri e Olmedo. I tecnici di Abba Noa dovranno intervenire nella riparazione di una grossa perdita idrica che si è verificata nella condotta forane a causa di una frana che alimenta i due comuni. I lavori che si svolgono in un territorio impervio per precauzioni indirizzate alla massima sicurezza dei cantiere potrebbero richiedere una chiusura della condotta. L'erogazione sarà garantita dai serbatoi, comunicano da Abba Noa, ma se i lavori dovessero protrarsi potrebbero verificarsi di servizi. Maciocco è stato eletto all'unanimità dal nuovo Consiglio Generale della Federalberghi Sardegna insidiatosi nei giorni scorsi presso la sede della Confcommercio di Oristano alla presenza dell'assessore Luigi Crisponi il quale oltre a passare il testimone ha illustrato ai colleghi le iniziative che la Regione sta mettendo in capo per il rilancio del settore pur in un momento in cui scarseggiano le risorse del bilancio regionale e ha sollecitato i colleghi a collaborare per rafforzare il ruolo del turismo nell'economia della Sardegna in un'ottica di rete con le altre filiere produttive quali agroalimentare, nautica, artigianato e commercio nel ringraziare i colleghi per la fiducia accordatagli come presidente Macioggio Maciocco ha assicurato che opererà per la soluzione delle problematiche del comparto alberghiero isolano settore fondamentale per lo sviluppo del turismo in Sardegna il Consiglio regionale della Federalberghi Confcommercio sarà convocato a breve per definire le linee operative del nuovo mandato triennale ed ora diamo la linea alla regia per la pubblicità a tra poco per la pubblicità